Buonasera la pagina politica in apertura il presidente della regione Nello Musumeci pronto a fare un passo indietro a rinunciare alla candidatura a Palazzo d'Orleanza nel prossimo autunno quando si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del governo regionale. Il governatore ha annunciato che giovedì mattina incontrerà i giornalisti quindi allora ne sapremo di più. Io toglierò il disturbo. Per la prima volta il presidente della regione siciliana Nello Musumeci profila quel passo indietro dalla corsa al secondo mandato che fino a qualche giorno fa sembrava non tenere minimamente in conto. Il governatore ha espresso le proprie perplessità sulla possibilità di ottenere la ricandidatura unitaria per il centrodestra a margine dell'inaugurazione a Catania della mostra Agata dedicata alla patrona della città etnea. Musumeci ha tratteggiato un bilancio del lavoro svolto in questi quattro anni e mezzo parlando chiaramente di chi verrà dopo di lui. Viene meno dunque la certezza di una sua presenza in campagna elettorale in vista del voto d'autunno. Una certezza la sua minata dalle ostilità interne alla coalizione con il presidente dell'assemblea regionale Gianfranco Miccichè che appena pochi giorni fa dal comitato elettorale del no eletto sindaco di Palermo Roberto Lagalla era tornato a ribarire il suo no a Musumeci bis. Per tenere unito il centrodestra Nello Musumeci deve fare un passo indietro alle regionali? C'è donna. Sì da parte mia e Nello Musumeci c'è da tanto tempo. Parole quelle di Miccichè alle quali il presidente della regione aveva replicato sarcasticamente definendole un sogno che non si sarebbe avverato. Poco fa Gianfranco Miccichè ha detto non c'è dubbio che Nello Musumeci debba fare un passo indietro rispetto alla ricandidatura. I desideri come le sa non diventano sempre diritti. Invece il passo indietro come anticipato ai suoi fedelissimi ieri pomeriggio sembra ormai una cosa concreta. L'uscita di scena di Musumeci aprirebbe adesso ad un confronto serrato tutto interno alle forze della coalizione con Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia già al lavoro da tempo in realtà per individuare una figura che possa fare sintesi del fronte apparso quanto mai diviso tra equilibri regionali e nazionali che non sempre coincidono. La cronaca frodi fiscali. La Guardia di Finanza di Catania ha confiscato due società e una ditta individuale del settore del commercio dei carburanti per un valore complessivo di 5 milioni di euro. Vediamo. Sproporzione tra il reddito del nucleo familiare e i beni allo stesso riconducibili. E' accusato di frode sulle accise Alessandro I Tirendi, milanese ma da tempo residente nella Catanese, considerato uno dei re del petrolio della zona etnea. La Guardia di Finanza ha confiscato 5 milioni di euro su ordine del Tribunale di Catania. Il provvedimento nasce da un'inchiesta della Procura eseguita appunto dai finanzieri del Comando Provinciale Catanese, secondo quanto emerso dalle accertamenti che hanno riguardato in particolare la disponibilità economico-finanziaria riconducibile appunto a Tirendi e che è stato indagato in più circostanze per reati relativi a violazioni tributarie e frodi nel settore delle accise, sarebbe stata rilevata la sproporzione tra il reddito del nucleo familiare e i beni allo stesso riconducibili. A riguardo, le indagini avrebbero permesso di appurare che Tirendi, pur a fronte di un reddito piuttosto basso, aveva direttamente o per interposta persona un'impresa individuale con sede a Gravina di Catania attiva nel settore del trasporto merci su strada, la Tiroil SRL, e una seconda azienda, la Tiroil SRL, con sede a Catania attiva invece nel commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi. Il Tribunale ha disposto la confisca delle due società e della ditta individuale, oltre a una somma in contanti di circa 500 mila euro, altre disponibilità finanziarie su conti correnti e deposito titoli il tutto, per un valore stimato di circa 5 milioni di euro. Il questore di Catania ha emesso altre tre misure di prevenzione del DASPO relativa all'aggressione dell'arbitro da parte di tre giocatori durante una partita di calcio dilettantistico. Volevano per il campionato FIGC di terza categoria. La violenta aggressione ha riguardato il direttore di gara dell'incontro di calcio tra Catania 1980 ed NBI, mister Bianco, che si è disputato lo scorso 30 aprile al campo sportivo seminario di Catania. I provvedimenti nei confronti tra i giocatori appartenenti alla squadra polisportiva Catania 1980, dei quali uno minore di 18 anni, i quali hanno accerchiato e aggredito l'arbitro colpendolo con pugni e schiaffi, con una violenza tale da costringere a rifugiarsi all'interno degli spogliatoi e quindi a fare ricorso può avere le cure del pronto soccorso per le cure del caso. I provvedimenti sono di un anno nei confronti delle minore, mentre per gli altri due calciatori della polisportiva 1980, che sono un 31enne e un trentenne, i DASPO avranno la durata di quattro anni. Torniamo sulla vicenda della piccola Elena Martina Patti. Era nel pieno delle facoltà. La bambina è stata vittima di una morte violenta e anche lenta. Lo scrive il GIP di Catania nell'ordinanza cautelare in carcere messa nei confronti della 23enne che ha ammazzato la figlia, la piccola Elena appunto, della quale saranno celebrati domani i funerali. La bambina che pare avesse una busta di plastica in testa. Sentiamo Mario Grasso. Deve essere stata necessariamente nel pieno delle sue facoltà, trovandosi in condizioni fisiche e psichiche idonee all'agire. È uno degli stralci della ordinanza cautelare. 15 pagine è messa nei confronti di Martina Patti, la 23enne, accusata dell'omicidio premeditato aggravato, oltre che accusata dell'occultamento del cadavere della figlia di 5 anni, la piccola Elena. Così, Daniela Monoco Crea, GIP di Catania, spiega alcune fasi della triste, tragica, sconvolgente vicenda. Secondo il giudice Martina Patti ha tentato di far credere di aver agito senza una piena consapevolezza, ma invece è una donna lucida e calcolatrice. Ho portato Elena in questo campo e le ho fatto del male e non ricordo altro, e di avere una cosa lunga tipo un coltello, non ricordo dove l'ho preso, non so perché ce l'avevo. Così la mamma e poi non ricordo bene perché ero girata e non volevo guardare descrivendo il momento in cui colpisce la piccola con 11 coltellate, di cui una mortale. Secondo il giudice uccidere uno figlio in tenera età e quindi indifeso, oltre a integrare un gravissimo delitto e un comportamento innaturale, ripugnante, eticamente immorale, riprorevole, disprezzabile, per nulla accettabile, in alcun contesto, indice tutto ciò di un istinto criminale spiccato e di elevato grado di pericolosità. Parole pesanti, pesantissime. Anche perché la donna non ha manifestato segni di pentimento durante l'interrogatorio, ha inscenato, scrive il giudice, il rapimento con estrema lucidità e non ha manifestato segni di ravvedimento o pentimento, tutte elementi che denotano una particolare spregiudicatezza, insensibilità, assoluta mancanza, di resipiscenza. E poi tanti non ricordo e non ricordo cosa sia passato nella mia mente quando ho colpito mia figlia, anzi posso dire che non mi è passato nessun pensiero come se in quel momento fosse una persona diversa. Poi un altro non ricordo la reazione della bambina mentre la colpivo forse era ferma ma ho un ricordo molto annebbiato, non ricordo di avere sotterrato la bambina ma sicuramente sono stata io. Domani l'ultimo saluta Elena alle ore 17 in cattedrale a Catani e funerali che saranno trasmessi in diretta sulla pagina web e canali social dell'Arcidiocesi di Catania ed anche da ReTV sul canale 18 del Digitale Terrestre in Sicilia. La città di Mascaluccia sempre domani osserverà il lutto cittadino in memoria di Elena, vittima di una morte violenta, particolarmente cruenta e anche lenta. Una notizia adesso che riguarda il mondo della scuola. Notte prima degli esami per 500.000 studenti al via domani gli esami di stato della scuola secondaria di secondo grado. Ha ottenuto l'ammissione agli esami di maturità il 96,2% dei candidati. In Sicilia sono stati ammessi il 95,5% degli studenti. In bocca al lupo a chi si appresta dunque alla prima prova degli esami di maturità. Parliamo adesso di donazione del sangue e emergenza a poco meno di una settimana dalla giornata mondiale della donazione con il nostro viaggio al centro trasfusionale del Garibaldi di Catania all'appello del gruppo Frates di San Giovanni La Punta. Mai vista una crisi così, dichiara Maurizio Papale. Sentiamo Guenda Garozzo. Donare sangue è un gesto per la vita, l'appello ai giovani coinvolti durante il loro percorso. scolastico con le autoemoteche tra istituti e licei ma che tendono a perdere questa buona pratica una volta ultimati gli studi. A pochi giorni dal nostro viaggio al centro trasfusionale dell'Arnas Garibaldi di Catania l'invito di Maurizio Papale del gruppo Donatori Frates di San Giovanni La Punta. Il parco donatori sta invecchiando, la cultura del dono va sostenuta dalle famiglie. L'appello che voglio fare in questo momento è innanzitutto siamo in una situazione veramente di emergenza, ve lo dico col cuore. Quindi chi mi ascolta attraverso la telecamera vorrei fare proprio quell'appello veramente parlando col cuore che possa raggiungere l'ospedale più vicino dove si trova e poter riuscire a dare una sacca di sangue. Ma soprattutto l'appello va rivolto ai giovani quindi alle persone magari più adulte o alle famiglie comunque cerchiamo di stimolare i nostri giovani perché saranno loro il nostro futuro. Ricordiamoci che il parco donatori ha una età media che va dai 40 ai 60 anni e questo non va bene perché fra qualche anno ci ritroveremo un parco che va dai 50 ai 60, non abbiamo più i 19 anni, i 20 anni e quindi l'appello principale va a loro. Noi quest'anno come gruppo di San Giovanni La Punta, perché parlo a nome della Fraters provinciale, regionale e anche nazionale, abbiamo fatto molto sulle scuole a San Giovanni La Punta, ad esempio il Polivalente, però ci rendiamo conto che riuscire a tirare fuori da là 50 donatori nuovi, ma il problema non è quello di averli avuti adesso, è quello poi di mantenerli perché uscendo fuori dalla scuola dovrebbero avere loro la sensibilità ma soprattutto di chi li guida e li può spingere. Un'emergenza così non si era mai avuta in Sicilia Quinta, la Semici assorbo nel 70% del fabbisogno e se è passato la provincia di Ragusa tra le più virtuose in termini di donazione insieme con regioni come l'Emilia-Robagna e la Lombardia hanno compensato le carenze croniche del sud, oggi non è più così, principalmente per gli effetti della pandemia che con i suoi strascichi ha anticipato di ben due mesi una crisi che solitamente si registra nel periodo agostano. Ecco, l'Emilia-Romagna quest'anno invece ci ha allargato le braccia come potesse essere pure la Lombardia e il Piemonte dove noi riuscivamo in qualche maniera a coprire il nostro fabbisogno purtroppo perché anche loro, da parte loro, hanno avuto questa grande carenza. Qualcuno magari si può chiedere, dice ma come mai quest'anno? Ecco, non ci scordiamo che il Covid ha fatto la sua parte perché molti donatori praticamente non si possono, non si sono potuti accostare per via del discorso o del contagio o comunque della quarantena. E la cosa più importante che mi preme dire è che purtroppo in questi due anni i giovani hanno perso la loro, quella che poteva essere il loro scopo, insomma, cercare di poterli far contribuire a tutta questa situazione. Chi si mette al servizio della salute altrui è stimolato anche a migliorare il proprio stile di vita con controlli periodici gratuiti. È possibile donare purché in buone condizioni di salute, valutate in fase di predonazione in qualsiasi giorno della settimana, tra ospedali e unità mobili sparse in tutto il territorio. E adesso parliamo di mare inaugurata stamattina l'ampia piattaforma in Piazza Europa a Catania, oltre 600 metri quadrati che consentono l'accesso al mare con la possibilità di usufruire anche di comodi servizi a supporto. Stamattina, come detto, l'inaugurazione. Un'estate da vivere intensamente con il mare in città. È stato inaugurato stamattina il solarium di Piazza Sciascia Europa, una piattaforma di oltre 600 metri quadrati con discesa mare protetta per consentire agevolmente di fare un bagno nello specchio d'acqua nella parte iniziale del lungomare. Tanti servizi offerti, dalle docce agli spogliatoi al punto di ristoro, compreso il controllo dei bagnini e il presidio della salvataggio in acqua. Poco distante a San Giovanni Licuti, già da una settimana è aperta al pubblico la piattaforma con discesa mare per i disabili. Questo credo che sia un lusso per la città di Catania, perché il mare è al centro della città. Abbiamo fatto di tutto, nonostante le difficoltà di quest'anno legate alla guerra, alla pandemia, al caro materiale, al difficoltà nel reperimento dei materiali per realizzarlo. Era da tanti anni che non si faceva, proprio per dare questa possibilità ai catanesi di avere il mare libero e gratuito al centro della nostra città. L'auspicio è quello che prevalga anche la civiltà nel conservare questa struttura nella maniera adeguata? No, lei ha detto una cosa che è fondamentale. Noi possiamo consegnare questa struttura alla città, ma è fondamentale che ognuno di noi abbia il rispetto necessario per avere cura del bene comune, perché la città non è del singolo, ma è di tutti. E quindi dobbiamo avere rispetto per quello che rappresenta la casa di tutti noi catanesi. Importante è anche la sinergia con l'Egambiente per il rispetto dei luoghi e un utilizzo ottimale. Abbiamo creato dei cartelli informativi per invitare i cittadini ad essere sostenibili essi stessi, quindi di utilizzare il monopattino per andare al mare. Noi abbiamo una cosa unica che è il mare in città. Il mare in città non ce l'ha nessuno veramente. Un mare che comunque è balneabile perché ci spiegava l'assessore che c'è, è vero che c'è un divieto di balneazione, ma è posto al di fuori di quest'area. Abbiamo il mare in città ed è giusto che utilizziamo i mezzi pubblici che sono presenti, sono vicini. C'è l'autobus, c'è una fermata della metropolitana molto vicina. C'è la possibilità di venire in bicicletta, ma c'è anche la possibilità di utilizzare i monopattini in sharing che sono presenti molto copiosi anche in questa zona. La sinergia, non so come posso dire, questa comunione che si viene a creare fra buone pratiche portate avanti dal comune di Catania, le associazioni come la nostra che si impegnano perché il territorio cambi, diventi più bello e più sostenibile e la collaborazione dei cittadini fanno una città non solo bella, non solo sostenibile, non solo che tutela l'ambiente, ma anche una città economicamente forte. E' stata installata sul relitto del piroscofo giapponese in abissatosi a 40 metri di profondità in località Acqua Grande della Timpa di Acireale, una targa commemorativa realizzata con il contributo della comunità subacquea catanese. Sentiamo. E' un momento storico, la posa della targa commemorativa a cui si riferiscono le immagini riprese da Salvo Gangi, operatore dell'associazione Futuro Mare sul relitto della Taiko Sanmaru, piroscofo giapponese affondato durante il primo conflitto mondiale nello specchio Acquio dalla Timpa di Acireale in località Acqua Grande, erroneamente confuso con il piroscofo Terni che giace invece a decine di metri di profondità di fronte al farobiscale di Catania. Nelle immagini realizzate sabato scorso, l'installazione della targa che commemora il sacrificio di quanti hanno perso la vita in mare, ma è anche e soprattutto un documento di identità, la corretta identificazione del relitto che si trova a 40 metri ed ha impegnato i subi nelle delicate fasi di posizionamento della targa agganciata sull'asse verticale del dritto di poppa. Il cartello realizzato in bronzo massiccio con il contributo della comunità subacquea catanese misura 55 cm di lunghezza e 35 cm di altezza. Un lavoro di squadra che oltre alle associazioni legate nella promozione e tutela del nostro mare ha coinvolto varie figure professionali del volontariato marittimo, dalle ricerche del capitano di lungo corso Andrea Di Mauro, a lui si deve la ricostruzione storica confermata dalle autorità giapponesi che hanno inviato una nota di merito al nostro paese, alla supervisione di Claudio Di Franco, funzionario direttivo della regione siciliana, sovrintendenza del mare e di altre equipi di associazioni attive a tutela del patrimonio subacqueo di cui la Sicilia dispone. Momenti emozionanti per quanti hanno preso parte alla posa della targa che identifica uva puri come lo hanno ribattezzato i subappassionati di immersioni, aprendo un nuovo fronte di ricerca e esprone per future iniziative nella posa di targa identificative nelle restanti reliti risalenti al primo e al secondo conflitto mondiale presenti lungo le nostre coste, Carmelo Larocca è il presidente dell'associazione Futuro Mare. La Futuro Mare nasce appunto per questo, come ho detto prima siamo nati da poco, ma già abbiamo diversi progetti portati a termine e altri da portare a termine. La mission della nostra associazione è appunto quello di rendere il nostro mare fruibile a 360 gradi, fare conoscere la storia bellissima e fantastica dei nostri relitti sommersi e soprattutto cercare nel nostro piccolo di tutelare ecologicamente il nostro mare. Tutte le fasi di immersione e poste della targa sono state accuratamente documentate da Mario Ganci, operatore subacque dall'associazione Futuro Mare, appassionato e documentarista dei nostri fondali. Abbiamo proceduto ad installare questa targa commemorativa a circa 35 metri di profondità sull'asse verticale di poppa del relitto che ricordiamo era da tempo conosciuto come Terni, invece oggi si chiama Taiko San Mauro e questo ci arriviamo grazie alle lungimiranti indagini svolte con dovizia di particolari rappresentate dal capitano di lungo corso Andrea Di Mauro che ha portato appunto alla scoperta di questo relitto giapponese risalente alla prima guerra mondiale. Il direttore dell'ufficio marittimo acese di Santa Tecla, comandante Gaetano Cuglielmino sottolinea l'importanza dell'evento e ribadisce il ruolo della Capitaneria di Porto nella tutela del mare e delle persone. Il relitto che si trova di fronte a Santa Caterina da Cireale finalmente ha un nome, ha una targa e quanti la andranno a visitare naturalmente cercando di stare attenti a quelle che sono le norme per le immersioni e incontreranno un relitto che ha una sua storia ed è il Taiko San Mauro del Giappone utilizzato dalla Marina Militare all'epoca. A riposto arriva la nuova comandante della Guardia Costiera, si tratta di Diletta Volpe che prende il posto lasciato dall'attenente di Vascello Francesca Natale. Venerdì prossimo la cerimonia ufficiale a Torre Archirafi, frazione di riposto. La cerimonia di avvicendamento è prevista per venerdì prossimo alle 11 nella sede istituzionale di Palazzo Vigo a Torre Archirafi. Stamana intanto il sindaco di riposto Enzo Caragliano ha incontrato nella sede municipale il nuovo comandante della Guardia Costiera di riposto. Si tratta di Diletta Volpe, tenete di Vascello Livornese proveniente da Cagliari. Dopo due anni il comandante uscente Francesca Natale ha infatti ceduto il testimone al nuovo ufficiale. Lascio un pezzo di cuore a riposto perché per me questa esperienza di comando è stata intensa e totalizzante. Io ho ringraziato e ringrazio pubblicamente le amministrazioni comunali, in particolar modo l'amministrazione di riposto perché ci hanno consentito in questo periodo due anni, che sono un periodo relativamente breve per fare tutto quello che si vorrebbe fare, per averci appoggiato e averci dato la possibilità di raggiungere veramente dei grandi risultati, di tracciare un percorso significativo per l'ambiente e per il territorio. Le parole del sindaco Enzo Caragliano. Ogni volta che va via un comandante della capeteria per noi, che è il punto centrale dell'attività marinale della nostra città, che è marinale. Per eccellenza e come si va via un parere, soprattutto quando ho saputo tutelare non solo il territorio, l'immagine, esaltare il nostro mare, i nostri luoghi. Un grazie così sentito e partecipato con tutto il cuore. La comandante Natale ha saputo proprio navigare questo mare, a volte molto tempestoso, in un periodo pandemico e quindi particolare, con maestria, preparazione e soprattutto con la leggerezza che ha distinto la parte femminile del comandante, che ci ha lasciato profumo e soprattutto quello che è un augurio di crescita per tutto il territorio, tutta l'ambiente in modo particolare. Il nuovo comandante, Diletta Volpe, ha espresso la propria fierezza per il prestigioso incarico ricevuto. Sono ben felice di essere arrivata in questa terra meravigliosa, in questa città accogliente. Sono certa che continueremo nella collaborazione tra istituzioni per proseguire sulla linea istituzionale tracciata dal mio predecessore. Il capitano dei carabinieri della compagnia di Cireale, Stefania Riscolo, è stato in visita ufficiale alla comune di Cicatena incontrando il neosindaco Margherita Ferro. All'incontro era presente anche il luogotenente Fabrizio Spelta, comandante della locale Stazione dell'Arma. In sala giunta per l'occasione è anche l'assessore designato Davide Quattrocchi, il vice segretario comunale Annelisa Vasta e il vice comandante della polizia locale Salvatore Finocchiaro. Il sindaco Ferro ha chiesto all'ufficiale dei carabinieri un maggiore controllo del territorio e una più intensa collaborazione istituzionale. Torniamo a Catania, Agata la Santa Patrona in varie sfaccettature artistiche. Sino al prossimo 31 ottobre una prestigiosa mostra è visitabile al piano inferiore del palazzo che ospita la sede centrale dell'Università Etnea. Sant'Agata assoluta protagonista di una mostra allestita nei locali al pianterreno del Rettorato dell'Università di Catania. Dipinti, ceramiche custodite nei musei regionali e civici, sculture e fotografie di artisti contemporanei raffiguranti la Santa Patrona Catanese. Una ventina le opere esposte nella mostra, aperta fino al prossimo 31 ottobre, inaugurata ieri sera, alla presenza del Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, del Prefetto e del Rettore Etneo. L'iniziativa è finanziata dall'ente regionale attraverso l'assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana e organizzata dalla Sovrintendenza per i beni culturali e ambientali di Catania in collaborazione con l'Università e la Fondazione OL Mediterraneo Antico. L'icona che ha una sua valenza prettamente religiosa, l'icone per la venerazione, diventa anche mito nell'interpretazione. Un passaggio dalla teologia, dalla considerazione del mistero di Agata, martire di Cristo, all'antropologia, al fatto che Agata diventa l'eblema di tutte le donne violate e diventa l'eblema anche di una città che in lei trova la sua identità. Un segnale forte anche per la giovane generazione? Certo, perché aiuta ad andare oltre e aiuta ad interpretare le immagini, aiuta a soffermarsi. L'arte ha sempre questa grande capacità di riportarci alla nostra interiorità. Un'opera d'arte va ammirata, ci si sofferma davanti ad essa, oserei dire va contemplata, ci fa riscoprire qualcosa di noi stessi e spero che i visitatori, guardando queste poche ma bellissime immagini, possa riflettere. Sant'Agata vista sotto molteplici sfaccettature. Sì, questa unione, divisione tra il contemporaneo e l'antico per noi è, di Fondazione OL, è un passaggio estremamente importante. Il riconoscimento da parte di istituzioni come la sovrintendenza ai beni culturali e l'università dell'importanza della condivisione di progetti con privati è un passo molto importante verso un futuro diverso per questa città. Opere che riguardano la Santa Patrona che attraversano varie epoche? Assolutamente sì, con due percorsi paralleli ma che si sono uniti in una grande armonia. Tutto è partito da una visione OL, da una mostra appunto Agatha on the road fatta a febbraio scorso che ha rappresentato una Santa diversa in un anno ancora di devozione silente. L'esposizione su Sant'Agata è ospitate in alcune sale del Museo dei Saperi e delle Mirabili siciliane, sito alla pieno terra dell'edificio dell'arretorato in Piazza Università a Catania. È una mostra che sarà qui in rettorato per oltre quattro mesi e che vede davvero l'aiuto, la sponsorizzazione della regione siciliana che ha messo a disposizione tutti i beni preziosi presenti nei musei regionali e saranno qui per quattro mesi per poter essere ammirati dai turisti ma anche da tutta la cittadinanza. È una mostra bellissima, è una mostra su Agatha, una mostra su Sant'Agatha, dall'icona cristiana al mito contemporaneo. Affermazione dell'Aquilia Dance di Acireale ai recenti campionati italiani di ballo. L'associazione si è giudicata importanti titoli nella categoria over 31 negli Open a squadre. Esibizione sabato in Piazza Duomo ad Acireale con lo spettacolo che coinvolgerà le varie scuole di ballo presenti in città sino al prossimo 10 luglio. Sentiamo. Il successo è l'aggiudicazione di importanti titoli nei campionati nazionali delle varie discipline di danza, recente campionato italiano che si è svolto a Catania dopo 22 anni di assenza e che ha visto la partecipazione delle più importanti scuole di ballo provenienti da tutta Italia colloca l'Aquilia Dance di Acireale, la sonata scuola di ballo, nell'Olimpo del settore, fortemente competitivo, che annoverà alcuni tra i più capaci e abili ballerini formatesi in questa sala dopo ore e ore di prove singole o in singolo. Quattro titoli, due nella categoria over 31 e altre tanti nella categoria Open a squadre composta da 15 ballerini e un ballerino, Andrea. Ragazze coreografate da Diana Valastro con la supervisione tecnica di Sebi Privitera. Nelle immagini le fasi di premiazione, recenti campionati italiani di danza, passione e determinazione caratterizzano questi atleti nelle varie categorie. La competizione è solo la punta della piramide, scalarla è un compito facile a dirsi, altra cosa è raggiungerla e a vederle questi ragazzi d'età compresa tra i 5 e i 18 anni esibirsi durante le prove e uno spettacolo mozzafiato. Abilità intesa, specie nei movimenti rigorosamente sincronizzati, combinano il singolo in un corpo unico, con movenze sinuose ed eleganti. Uno spettacolo aperto a tutti, sabato 25 giugno alle ore 20 e 30, nel Gran Galà di Piazza Duomo ad Acireale, per quanti volessero assistere dal vivo all'esibizione delle danzatrici che animeranno la serata proponendo varie combinazioni di danza. Tra le campionesse spiccano tra le altre Valeria Lazzara, specializzata in samba e cia cia, e Daniela Puglisi nella danza sportiva con la sorella Serena. Ci sono tantissime ore di allenamento, non bastano mai, ovviamente per crescere, per raggiungere dei buoni livelli, alti livelli, non si è mai soddisfatti, insomma, non si arriva mai. Da quanto tempo lei fa questa disciplina? Allora, da cinque anni, cinque, sei anni, diciamo che il gruppo prima era piccolino, eravamo pochi membri, poi piano piano, insomma, il gruppo è cresciuto e quindi è cresciuto anche l'entusiasmo, la voglia di fare bene e di arrivare in alto. È stata una gara, devo dire, veramente appassionante. Ho gareggiato insieme ad una delle mie sorelle e questo ovviamente è un punto di forza, in quanto essere in due sicuramente significa avere una grande sintonia, una sintonia che va ben oltre gli allenamenti in sala, ovviamente grazie al fatto di essere sorelle la nostra sintonia è molto più forte, ma dobbiamo sicuramente il nostro risultato all'impegno del nostro maestro e a tutte le ore che dedichiamo ai nostri allenamenti, che risultano veramente molto, molto impegnativi. Direttore tecnico Esebi Privitera, impegnato nella gestione delle varie discipline di ballo su indicazione di Diana Valastro, istruttrice rigorosa e polietrica. Ovviamente devo dire un grazie, un grazie di cuore a questi ragazzi che a prescindere dall'età, perché quindi abbiamo conquistato ben quattro titoli, sia nella categoria open e anche nella categoria over 31, quindi a prescindere dagli impegni scolastici o dagli impegni lavorativi, si dedicano con vera passione alla nostra disciplina sportiva e quindi per noi è stato un grande onore disputare i campionati italiani qui in Sicilia dopo 22 anni non si era mai verificato un'edizione dei campionati italiani qua dentro casa, come si suol dire, ed era un sogno poter vincere almeno un titolo. Ne sono arrivati quattro nei gruppi e altre vittorie nei solisti e nei duo, quindi è stato veramente un motivo di orgoglio. Le scuole di ballo della città tornano protagonista dell'estate accese con il Festival della Danza dal prossimo 23 giugno, promosso dall'amministrazione comunale su proposta dell'assessore allo sport, turismo e spettacolo Fabio Manciagli. Parte dalla capoluogo e tennevo il viaggio musicale in cinque città in cinque diverse regioni del sud, Catania, Catanzaro, Salerno, Matera e Brindisi, sono le tappe che toccherà la nuova tournée dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, direzione generale e spettacolo. Il Via, questa sera, nel giorno della Festa della Musica, celebrata in più di 120 paesi in tutto il mondo, inserito nella stagione estiva del Teatro Massimo Bellini, realizzato in collaborazione con la regione siciliana, assessorato allo spettacolo Comune di Catania, Fondazione Taormina Arte Sicilia, in programma nei giardini di Villa Bellini, questa sera sarà trasmesso da RAI Cultura in diretta. sul podio per tutti e cinque i concerti è impegnato il direttore d'orchestra americano John Axelrold. Il programma musicale è un omaggio al nostro paese, una scelta di celebre pagine dei più noti compositori italiani, dalla Sinfonia della Norma di Vincenzo Bellini all'Overture di Gioacchino Rossini. Entriamo in studio, vediamo insieme le previsioni meteo per la giornata di domani. Bel tempo su tutta la Sicilia nella giornata di mercoledì 22 giugno 2022, il sole splenderà ovunque, i mari saranno calmi. Le temperature previste tra minime e massime con il picco più alto che si registrerà, a Siracusa con 39 gradi di massima, 19 di minima, a Catani invece 38 di massima, 23 di minima, ma farà caldo un po' da tutte le parti, anche nell'entroterra. Abbiamo concluso, vi ricordo che potrete seguire questa edizione della telegiornale sul sito reitv.it e sui nostri canali social. L'appuntamento con l'informazione in diretta è rinviato a domani, a partire dalle 14. Ringrazio in regia Fulvio Feraudo e Carmela Fagone e vi auguro la più serena. Buona serata.